Ogni giorno la nostra bella lingua italiana è maltrattata, offesa, vilipesia, svarioni, strafalcioni, ovunque. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare un giro per l'Italia per fare un test sulla conoscenza dell'italiano. Seguitemi! Seguitemi! Roberta, cosa significa il termine vilipeso? Non lo so. Prova, prova. Non lo so. No, 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 no. Riccardo, cosa significa il termine costernato? Oh madonna, costernato, essere in costante costernazione di... No, non la so. Serena, cosa significa il termine cosmopolita? Cosmopolita è colui che appartiene al cosmo. Cosa significa il termine obsoleto? Che è passato, che non è più di moda. È una cosa che è vecchia, non è più superata. Bravo, bravo. Dal melogrammatico è tutto, uno sfacelo, o quasi, linea allo studio. Uno... Vale. Ciao. 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 Ciao.